Un cielo abbastanza simpatico che va dal rosa al celeste con queste nuvole cotonate. Ci troviamo sulla strada che collega l'autostrada allo spincolo di Vazzano per poi proseguire verso la trasversale delle serre. Io volevo dire a coloro che mi seguono che io non è che mi occupo solo di interviste per la valorizzazione del territorio, ma faccio anche informazione mettendo in risalto le varie problematiche da risolvere, non solo nelle serre ma anche in gran parte della Calabria. Mi ritrovo oggi su questo nuovo tratto di strada statale che è la 713 che porta allo svincolo che da Vazzano poi porta verso Serra San Bruno, nel territorio comunale di Cardillo. Sono circa 5 chilometri che comprende due lotti del primo tronco. Diciamo che questa strada quando sarà finita sarà sicuramente uno sbocco non solo economico ma anche turistico per i borghi isolati come Simbario, Spadola, Brognaturo. Serra diciamo che è già conosciuta, ha già un gran turismo, quindi sicuramente ci sarà anche più sviluppo per il territorio bruniano. Mi ritrovo qui perché poco fa, tornando sull'autostrada da Reggio, mi ha attraversato un cinghiale che era grande quanto un pedalò ed è passato proprio da questo guardarell. Meno male che giorno sono le 19.30 perché se fosse stata notte, essendo nero l'animale, non l'avremmo visto e sicuramente avremmo tamponato. Quindi diciamo che è una settimana un po' particolare, dovrò farmi sicuramente beneviro io la macchina ma sono qui per dire che la colpa non è del cinghiale, povero Cristo. È un animale che fa il suo corso naturale attraverso le strade alla ricerca del cibo. Il problema siamo noi, siamo le istituzioni, sono le persone che hanno liberato tanti anni fa animali non autotoni perché diciamo la verità, il vero cinghiale pesa 70 kg, fa 4 cuccioli. Questi sono cinghiali importati dalla Romania, dalla Moldavia tanti anni fa e si sono quadruplicati. Pensate che solo nelle serre ci sono oltre 30.000 cinghiali, 2 milioni di cinghiali in tutta la Calabria. Cinghiali che non solo rovistano nei rifiuti ma anche creano pericolo alla circolazione stradale. Quindi alla fine il vero pericolo non è il cinghiale, il vero pericolo è l'uomo, l'uomo che purtroppo libera e poi la natura fa il suo corso, si creano casini insomma. Quindi io sono qui per dire non alle istituzioni ma a tutti coloro che percorrono ogni giorno questo tratto di strade che è meraviglioso, anche illuminato, diciamo non è neanche tanto sporco perché se guardate il guardarell le erbacce sono dall'altro lato. Io sono qui per fare un annuncio, un annuncio particolare, cioè se io avessi centrato il cinghiale rischiando la vita mi chiedo, mi chiedo davvero, sarei dovuto in qualche modo a chi mi sarei dovuto rivolgere? All'ex articolo 2043 o al 2052? Cioè basterebbe per semplificare il tutto, per risolvere i problemi una rete che delimiti il tratto in questione con questa parte boscosa. Quindi prima che succeda l'imprevedibile riflettete e pensateci. Un saluto a tutti da Gij e dal tratto che collega l'autostrada a Serra San Bruno è tutto. Ciao!